Figlina Incisa si appresta a dare il benvenuto a Papa Francesco in visita al Movimento dei Focolari giovedì 10 maggio. Il Santo Padre arriverà in elicottero alle 10 al campo sportivo di Loppiano, dove sarà accolto dal Vescovo di Fiesole, Monsignor Mario Meini, e dalla Presidente del Movimento Maria Voce. Il Pontefice si reccherà al Santuario di Mariate Autocos e a seguire sul Sagrato incontrerà una rappresentanza della comunità. La visita si concluderà intorno alle ore 11.45. In questa occasione la sindaca Giulia Mugnai consegnerà a Papa Francesco un'opera di Lorenzo Bonecchi, artista figlinese di fama internazionale, scomparso improvvisamente nel 1994 all'età di 39 anni. L'opera, donata dalla moglie Stefania e dal figlio Giovanni, raffigura uno dei soggetti preferiti di Lorenzo Bonecchi, ovvero San Francesco d'Assisi. Volevamo dare un abbraccio al nostro Pontefice che viene in visita a Figline Incite. Abbiamo pensato che il miglior modo fosse proprio quello di donargli quest'opera che è fortemente simbolica perché è una cera molle di Lorenzo Bonecchi. Io ringrazio la famiglia perché la moglie e il figlio hanno voluto donare quest'opera al comune di Figline Incisa proprio per poterla poi trasmettere al Pontefice. L'opera rappresenta San Francesco e quindi non ci sembrava il soggetto migliore da poter dedicare al Papa e ha scelto questo nome non a caso proprio perché il portato simbolico di questo santo è così significativo. È una visita al movimento ma che il movimento stesso ha deciso di aprire a tante persone, a tutta la comunità in cui la cittadella di Loppiano si trova situata e quindi sarà un momento di abbraccio vero e proprio tra il Papa e la nostra comunità. La visita sarà davvero un momento straordinario e sarà anche importante dal punto di vista organizzativo perché sono previste più di 6.000 persone in arrivo a Loppiano e quindi si raccomanda a tutti di seguire quelle che sono le indicazioni per la viabilità e per l'accesso alla zona rossa quella proprio della visita del Papa e si ricorda anche che solo chi è munito di pass potrà accedere alla zona rossa con il Papa. Questo lavoro viene dalla nostra collezione, dall'archivio di casa e abbiamo scelto questo soggetto in omaggio proprio a Papa Francesco e lo stesso Lorenzo che sempre ha rappresentato Santi ha lavorato con temi religiosi, amava come Papa Francesco in modo particolare San Francesco, il santo della povertà, il giullare di Dio e soprattutto amava il rapporto del santo con della natura con il creato.